Siamo a Stilo, nella piazza principale e in queste serate agostane non soltanto si parla di libri o di musica o di cose leggere. L'Accademia Enotria ha voluto porre ad un pubblico attamente qualificato una realtà nuova, ma che per gli uomini diventa pure un oggetto di studio molte volte trascurato, la prostata. Ed in questa serata il professor Mauro Vermiglio, uno stilese d'adozione che insegna, ma nello stesso anche opera in quel di Roma e in provincia di Frosinone, un primario chirurgo con oltre 20.000 esperienze alle spalle, che ha scritto dei libri, ha fatto dei stage in America, ha reso edotto questo pubblico principalmente rendendolo protagonista su una materia che potrebbe apparire ostrusa, ma che di fatto dovrebbe essere presa in considerazione per migliorare la qualità della vita. Diciamo che è stata un'esperienza molto bella quella di poter parlare a delle persone normali. Noi siamo abituati a parlarci un po' tra di noi, invece parlare a delle persone normali che hanno dimostrato un'attenzione al di sopra di qualunque aspettativa è stata un'esperienza veramente piacevole. Io ho cercato in qualche modo di illustrare quali sono le problematiche e quando e come bisogna approcciare con la patologia prostatica. Ossia ho voluto divulgare un pochettino quelle che sono le strategie da mettere in atto per arrivare a una diagnosi precoce dell'ipertrofia prostatica benigna e quindi prevenirne le complicanze. Non dico di alterare la storia naturale della malattia perché quella è una cosa difficile, però sicuramente noi possiamo fare qualche cosa per migliorare la qualità della vita di queste persone che hanno difficoltà minzionali. È inutile che ci giriamo intorno. La prostata prima o poi a tutti darà problemi alla minzione. Abbiamo gli strumenti, ci sono i sistemi per fare la diagnosi in tempi e in modi adeguati, per cui se si sa, si fa. Le cose che non si sanno non si possono fare. Una felice scelta quella di Francesco Sor Giovanni e dell'Accademia Notria. Come pure l'amministrazione comunale, ha sentito il dovere di partecipare e il premio che l'Accademia ha voluto conferirle, credo che sia anche il giusto riconoscimento. Questa è una cosa per me inaspettata, una sorpresa veramente gradita che mi ha commosso, mi ha inumidito gli occhi e io non sono tanto facile a queste cose. Quindi devo ringraziare enormemente l'Accademia Notria, ma devo ringraziare tutta la cittadinanza di Stito e perché mi ha adottato in modo piacevole e addirittura mi coccola. E poi perché diciamo che anche l'amministrazione è sempre stata compiacente con tante iniziative di Sor Giovanni e quindi anche con questa qui, che per me personalmente è stata un'esperienza inebriante. Io è il primo conferimento che faccio di quest'opera d'arte fusa dai maestri artigiani Marinelli e proprio l'ho voluto fare questa sera in occasione della conferenza medico-scientifica che lui ha voluto donare ad una platea immensa, ordinata, composta, attenta, proprio per stabilire un inizio per il conferimento di questa targa che vuole essere un simbolo della calabresità, della stilesità, dei personaggi che la ricevono. Non devono essere per forza personaggi di stilo, ma tutti quei personaggi che dimostrano di amare la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra gente. E continuerò a farlo come Accademia Notra tutte le volte che ci si presenterà un'occasione come quella di questa sera.